buonasera buonasera salve senti siccome oggi è il compleanno della mia bambina e sinceramente sono un po difficoltà e non so cosa regalarle e ma lei diciamo che predilige soprattutto dei barbi si quale si sa le bambine si vanno benissimo ma ecco così con lei c'è una stanzetta piena di barbie anche se vorrei cambiare ogni tanna di me perché giustamente le barbie giovane un po stancate vabbè comunque se mi trovo in questo negozio bene comunque complimenti grazie 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 signora vedo che saluta di barbico sì ne abbiamo parecchie di tutti i tipi mi diceva niente questa è la bar di principessa sul 25 abbiamo la bar di sirena 19 90 la bar di ballerina 19 90 abbiamo le bar di floreali 19 9 poi abbiamo la bar di principessa 19 90 e poi abbiamo la bar di divorziata 250 euro quanto costa scusi 250 la bar di divorziata la bar di divorziata 250 euro e perché acquistando questo tipo di barbie comprende anche la casa di ken lo yacht di ken la barca di ken la villa di ken la lì un sindicale si 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 il garage di ken il garage di ken il garage e il comprende parecchie cose di ken tutto di che è bello perché la bar di divorziata sì 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 signora quanto costa questo cani all'ino che mi piace a sé bello 5 euro Allora comprò questo signor, 5 euro E' un regalo stesso a mia figlia Stupido chiuso Non ciò cazzo, io devo decidere Signora